Ha vinto la speranza, ha vinto la volontà di cambiare le cose, ha vinto la volontà di occuparsi dei problemi italiani, ha vinto la volontà di affrontare i problemi e non strumentalizzarli. Credo che sia un grande messaggio politico quello che proviene oggi dall'elettorato italiano, non solo per l'Italia ma per l'intera Europa.